Amici di Mila.Soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il mondo rosso-nero. Benvenuti, benvenuti, benvenuti e buona giornata. Prima di iniziare però vi chiedo di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi numerosi al canale. Stiamo diventando sempre più numerosi e mi fa molto piacere vedere che vi piacciono questi video. A qualcuno non piace e me ne scuso, magari ce ne sono tanti altri di canali, però per chi ci segue, chi vuole seguirci e vuole far parte del mondo di Mila.Soccer gratuitamente è sufficiente guardare qui sotto, da qualche parte c'è una manina, se voi la cliccate potrete entrare a far parte della nostra grande family, la family che ogni giorno, 7 giorni su 7, tutte le mattine alle 6.45, vi dà il buongiorno rosso-nero e quindi vi parla delle news, delle curiosità, delle statistiche e poi durante tutto il giorno se voi vi collegate sempre a milan.soccer potrete appunto curiosare, vedere le news, siamo sempre sul pezzo, quindi non vi preoccupate, ricordo qui sotto da qualche parte c'è una manina. Allora, da dove possiamo iniziare, da dove vogliamo iniziare? Ma iniziamo dal fatto che ieri un risultato su tutti voglio commentare e il risultato di cui vi voglio parlare è il risultato dell'Atalanta. Perché? Perché l'Atalanta ha perso in casa con il Lecce ed è una questione importante per noi. Perché è una questione importante? Perché? Per due motivi. Primo, perché la lotta Champions vede impegnata anche la squadra di Bergamo, signori, è ancora con noi il direttore. Saluta direttore, anziché far vedere che poi si muove la telecamera. Il direttore Sangria, il gatto più simpatico che ci sia. Va bene, scusate questa movimentazione. Dicevo, innanzitutto per quanto concerne effettivamente la classifica e poi anche per quanto riguarda la faccenda di domenica prossima, perché incontreremo proprio l'Atalanta, in quel di San Siro. È proprio di San Siro che vi voglio parlare questa mattina, o che vogliamo parlarvi insieme questa mattina. Dunque, per chi lo vede in televisione, per chi vede il Milan in televisione, io ho avuto modo di constatare la cosa anche molto, molto, molto da vicino e vi posso garantire che è peggio da vicino che dalla televisione. È stato un inverno freddo e l'inverno freddo ha portato a delle temperature davvero importanti sotto lo zero e il risentimento del campo è un risentimento importante. Insomma, San Siro, dopo un lungo periodo in cui ha avuto questo problema, quindi veniva completamente rizzollato, spesso e volentieri rizzollato, poi ad un certo punto che cosa ha fatto? Ha trovato un po' la soluzione e la soluzione è stata trovata, ma adesso ritorna il problema. Questo è uno svantaggio sia per quanto concerne il gioco, sia per quanto concerne appunto la possibilità di infortuni. Se andiamo a curiosare però, noi abbiamo giocato spesso in casa in queste settimane, la prossima giocheremo ancora in casa con l'Atalanta, questo l'abbiamo detto, poi faremo Fiorentina e Londra, Tottenham, per ritornare il 13 marzo, l'unica partita che faremo a San Siro con la Salernitana. Poi sarà Udinese il 18 marzo e dopo la sosta, il 2 aprile, andremo in quel di Napoli. Ora commenteremo anche un po' la difficoltà di questo calendario, però a marzo, oltre che poi ancora febbraio con l'Atalanta, giochiamo solamente una volta. Quindi speriamo che poi le temperature ridiventino miti e che effettivamente il campo possa tornare normale, perché ormai dobbiamo guardare a tutto, dobbiamo guardare anche a queste che sembrano piccole cose, ma mi sono informato con alcuni tecnici e hanno detto che tutto sono tranne che piccole come cose, e quindi oggettivamente dobbiamo stare molto 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 attenti. Adesso però lasciatemi, voglio farmi sentire una cosa, oggi ci divertiamo un pochettino, vero Sangria? Direttore Posso? Andiamo con... E va bene, si avvicina il 2 aprile, quindi mi sentivo, diciamo così, voglioso. Non è tanto uno scherzo, perché voi vi ricordate quando ad un certo punto girava voce, tra l'altro messa in giro da Caressa, che diceva appunto che... Avete visto la copertina? È per questo che rido. La copertina, oltre all'allarme San Siro, quindi un allarme imprevisto, ci parla di Messi all'Inter. E come vi dicevo, come vi stavo dicendo, c'è stato un periodo in cui Caressa diceva che i cinesi, che hanno soldi appalate, effettivamente faranno un acquisto molto importante, ma grosso, eh? Il giornalista dall'altra parte chiedeva, grosso chi? E lui rispondeva, Messi. Abbiamo riso tanto, vi ricordate quella pagliacciata sul Duomo di San Siro, sul Duomo di Milano, scusate, la sagoma di Messi, tra l'altro era ancora al Barcellona? Ebbè, noi abbiamo talmente riso che poi alla fine Messi andrà all'Inter. Incredibile, non ci posso credere. Non ho capito. Come? Non va all'Inter. Come no? Ma non all'Inter di Milano. No, quella è la seconda. L'Inter quella di Miami, di Beck. Non ci posso credere. E vabbè, oggi si ride un pochettino. Sì, insomma, è stato fatto un accordo e quindi lasciando il Paris Saint Germain andrà a scernare a Miami, si divertirà con tutti i suoi miliardi. E dunque ha scelto. Comunque, alla fine, Caressa aveva ragione. Ha scelto, ha scelto, ha scelto l'Inter. Ma torniamo alle cose serie. Torniamo alle cose serie perché in questo momento il Milan ha ritrovato alcune certezze, altre mancano. Come ho detto, per me la crisi non è ancora conclusa. Però ci fa piacere pensare che questo Malik Chao, che si prende adesso tutta la scena, è una certezza. E la difesa 3 mi convince, considerando che con Tomori e Calulù in appoggio a Teo Hernandez. E dall'altra parte spero torni un Calabria fresco, che possa avere un appoggio. Quindi di fatto, quando dicono la difesa 3, possiamo considerare i due esterni alti come difensori che portano la difesa 5. E con i due centrocampisti mi convince particolarmente. Quello che però non mi convince è oggettivamente la questione relativa all'attacco. A noi ci manca una punta. Se lasciamo da parte Zlatan Ibrahimovic, che ha i titoli di coda, a me Orighi personalmente non mi convince, non mi piace. E quindi tutto sulle spalle di un Giroud che non ha neppure lui 20-25 anni. Quindi noi dobbiamo concentrare tutte le nostre attenzioni su un attaccante, un attaccante vero, che comunque morda l'area, che comunque possa garantire un numero di gol sufficiente per poterci riportare lì dove meritiamo di stare. Ci sono dei nomi che girano, qualche volta l'abbiamo fatti. Adesso cercheremo di entrare un po' più nello specifico. Però, d'altro canto, non possiamo nemmeno pensare di prendere o uno di 40 anni o uno di 16 anni aspettando che cresca. Un nome grosso ci vuole, una punta d'impatto ci vuole. Ed è quello che speriamo succeda. Ora, nel pomeriggio, questo pomeriggio, dobbiamo verificare alcune cose. Seguiteci perché domani sarà una puntata speciale. Il direttore conferma. Sarà una serata speciale, molto importante. Per ora e solo per ora è tutto. Da me e dal direttore, buona giornata, ciao!